Angelo! Senti, mi vendi questo trattore? Vendo un trattore? Ma questo mi serve? Ma che ti serve tutti i ragnatieri? Guarda come lo teni! Ma tu fatti le cazzo d'ogni tante! Questo va benissimo, me lo tengo e costa un sacco di soldi perché questo è pure d'epoca! C'ha 52 anni! Si ho capito, puoi avere pure 60 anni, non mi importa, a me mi serve e... Eh, dai! Te vado con 5.000 euro! Che è? 50.000 euro? 5.000, 5! Ma vado a zappare la terra, questo non te lo do! Vado a zappare la terra! Già di una fresca, vado con la fresca! Dai, tu ti ragnatele! Io chiamo a briscola! Ce lo chiamo a carte? A carte! Tanto ti faccio un culo così, come sempre! Dai, tocca a te! La maghella! Ha ha! 21! E vai! Oh! Voi! Minimo 100 punti! Un trattore mi devi dare! Oh! Io mi faccio una bovuta! Io la cantina che mi devo arpia, va! A posto, pure l'ovigio ci sono guadagnato! Vieni, vieni! Buono, Sovini! Questo è buonissimo! Oh! Ma andiamo a vedere un trattore però eh! Ti ricordi? Sì! Sì! Ti dà il trattore! Ti dà il trattore! Vieni, dai! Il trattore ricordiamoci però eh! Non fa che io ci scordiamo che io mi ricordo tutto! Questa è la mia, vedi che mi ricordo? Un grande moto la porta alla casa perché così non cammini! Eh vabbè! Ma un trattore mi devi dare eh! Un trattore! Un trattore! Ricordate un trattore! Non ti scorda! Un trattore eh! Senti Veronica! Qua sta marito da quest'Ambriaco Lercio! Nooo! Lo so trovato qua così! Dice una sacca di cazzate! Ma se va a fregare lo trattore! Vi la ripriamo! Lo ricordiamo qua che è un trattore! Sì dai! Vi la ripriamo! Questa non gliela fa! Ciao, ciao! Ciao Veronica! Ciao, ciao! Un trattore! Vabbè vabbè! Vabbè vabbè!